benvenuti a questa nuova puntata della seconda stagione di misteri tra i libri parliamo di tito libio uno storico romano vissuto grosso modo al tempo di augusto che scrisse un'opera monumentale una storia di roma in 142 libri sostanza un'intera biblioteca di questi 142 libri ce ne sono arrivati solamente 35 quindi una frazione gli altri sono andati perduti nel corso del tempo e livio è un autore molto importante basta pensare è stato studiato per esempio attentamente da machiavelli e da altri e per questo molto presto si è cominciato a mettersi in cerca dei libri perduti e si sono anche sviluppate delle vere e proprie leggende sulla sull'ubicazione di quest'opera così importante già nel rinascimento sappiamo si diceva per esempio che l'opera completa di tito libio sarebbe sopravvissuta in posti remoti per esempio in norvegia oppure soprattutto si diceva che ce ne sarebbe stata una copia completa nel palazzo del sultano turco a costantinopoli naturalmente si trattava di voci di dicerie dicerie che però hanno avuto una vita lunga tant'è che nel 1924 quindi poco meno di cent'anni fa vi fu un grande clamore perché vi fu un tale un giovane studioso napoletano mario di martino fusco che si trovò al centro di un grande caso mediatico sembra che si fosse vantato di aver trovato qualche cosa di aver trovato qualcosa di livio che era andato perduto e questa notizia trapelò sulla stampa e fece il giro del mondo tant'è che tra agosto e settembre del 24 a napoli confluirono giornalisti studiosi curiosi in sostanza da tutto il mondo cosa successe che tutti vollero dire la loro alcuni studiosi credettero a questa notizia mirabolante altri invece sospettarono tra cui grandi filologi come hausman o come giorgio pasquali che non caddero in questa bufala perché di una bufala si trattava e infatti messo alle strette di martino fusco dovette alla fine ammettere che non era vero niente lui credeva di essere sulle tracce di qualche fantomatico manoscritto di livio ma in realtà non aveva nulla in mano e quindi quella che viene chiamata la farsa liviana finì tra le risate però non finirono le leggende che circondano ancora il destino del di una fantomatica copia integrale intera di livio tant'è che ancora oggi tra gli studiosi può si può sentir dire che vi sarebbero tutti i codici perduti delle storie titolivio in posti remotissimi per esempio in una biblioteca a fez in marocco ma appunto per quanto sia una storia molto appassionante si tratta anche in questo caso puramente di una leggenda a 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